La prossima Regional Biophysical Conference si svolgerà a Trieste dal 25 al 28 agosto 2016 presso l'ex ospedale militare e vedrà la partecipazione di circa un centinaio di ricercatori. Si tratta di un congresso scientifico che coinvolge la società di biofisica di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Serbia, Slovacchia e Slovenia e costituisce una modalità consolidata, affidabile e sostenibile di networking per gli scienziati della regione centro-europea attivi nel campo della biofisica. Gli argomenti multidisciplinari spaziano dalla ricerca di base ad approcci applicativi con particolare attenzione agli aspetti biomedici e biotecnologici. L'appuntamento è a cadenza biennale e contribuisce a stabilire e rafforzare le collaborazioni trasfrontaliere su argomenti di biofisica. Questa settima edizione del congresso è organizzata dalla Società Italiana di Biofisica Pura ed Applicata o SIPPA e coorganizzata dall'Università degli Studi di Trieste e dall'Istituto di Biofisica del CNR di Trent. Gli interventi proposti da relatori internazionali invitati sono articolati in sette sessioni tematiche che coprono aree innovative della biofisica, biofisica molecolare e cellulare, aggregati macromolecolari, biologia sintetica, biofisica integrata e sistemi complessi, nano-clustering di membrane e proteine di membrana, biofisica medica e neuroscienze, scienze dei materiali e nano-biofisica, metodi innovativi in biofisica, immagini dal vivo.